Ognuno di un minuto si dirà a fare la cosa sia Eccolo lì! E andiamo! 3-0, Lovic! Bella! Grande! Brava! 3-0! Di partire con la palla al piede... Dai, dai, dai! C'è Lovic! No! È gol! È gol! È quattro! È gol! È gol! Quattro! 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 Grande! Che capolazzo! Che gol ha fatto! Ma che gol ha fatto! Ma quattro! Bello, Vigilio! È un bel pareggio! Ibrahimovic-Vlavic, 2-2, un bel pareggio! Bello, bravo, bravo Dusa! E questo ragazzo ha fatto 10 gol in campionato e già in doppia cifra, sono 12 punti per la Fiorentina. È l'attaccante, cioè il giocatore è stato più decisivo in 13 giornate nel campionato italiano. Non aveva mai segnato al Milan, gli ha fatto una doppietta. Poi ci sono i numeri l'anno solare. È così, è così e quindi già se riuscissero a venderlo a giugno, insomma ecco io rinunciare dal punto di vista tecnico agonistico. Se non lo convincono con un progetto ambizioso giugno va più che bene. È inutile fare il mercato e poi parte Vlauwe. Cioè la Vlauwe c'è fino a giugno e allora a quel punto tu nel ginone di ritorno puoi contare su un calciatore, non so, la scorsa ha fatto in totale 21 gol, magari può arrivare anche a qualcosa in più.